Musica Benvenuti, questo è il primo video diverso dagli altri Mi son detto potrebbe essere interessante tirare fuori una serie di racconti su attrazioni, su parchi divertimento interessanti Siccome comunque negli anni ho cercato spesso video di questo tipo E onestamente ho sempre trovato video di bassa qualità o che non mi davano soddisfazione online Spesso le top 10 sui parchi sono semplicemente scritte con immagini senza parole, senza racconto e senza qualità E questa cosa mi disturba dentro Quindi mi son detto proviamo a fare un episodio di una potenziale nuova serie e vediamo come va, se piace E nel caso lo riproporrò in futuro Quindi oggi vi racconterò 10 attrazioni che sono state rimosse nel corso degli anni da Gardaland Partiamo con la prima No stavo scherzando, stavo scherzando Niente brutte transizioni Innanzitutto partiamo con Cyclone Il primo vero coaster del parco Un city jet dell'azienda Schwarz O un'amica che fa tedesco Schwarz Kopf Schwarz Kopf Schwarz Che era l'azienda produttrice Era un piccolo coaster situato circa dove adesso si trova la piazza Ramses Stiamo parlando del 1981 Venne poi chiuso nell'83-84 Questo guardando le mappe perché spesso i siti indicano come date dall'82 al 91 Però se guardi le mappe non c'era Quindi Ma è possibile che alcuni di voi l'abbiano anche provato perché è presente una copia identica Anche se non è proprio la stessa attrazione fisica A Moviland Attualmente è chiuso e in fase di smantellamento sembra Chiamato Bronto Jet Al fondo del parco Un'attrazione piuttosto rigida Dalla quale se ne esci senza lividi È tipo una magia Non credo di essere mai uscito senza un graffio, un livido o qualche botta Ma Un'attrazione che fu molto apprezzata Fino a quando non sono poi nate le Magic Mountain E allora da lì insomma Abbiamo poi Asterline Saturno 7 Un simulatore spaziale a forma di razzo Situato nella zona dove ora si trova il Magic Kingdom Nasce nel 1979 Opera fino all'87 Da lì in poi viene utilizzato solo come scenografia Fino allo smantellamento nel 94 Viene poi preso e spostato a Moviland Lo stesso meccanismo utilizzato per l'attrazione U571 Che nasce nel 2006 Quindi lo potete ritrovare lì nel tour panoramico a Moviland Lo vedete dall'alto Ed è sempre lì Anche se è totalmente diverso Abbiamo poi la Crazy House Ovvero il castello di Mago Merlino E prima ancora il castello di Dracula Che inizialmente era appunto una Crazy House Ovvero un percorso all'interno del castello Situato esattamente dove sta ora il castello Ad ostacoli Un'attrazione molto comune nei Luna Park Che viene poi rimossa nell'82 Per fare spazio allo show con gli animatronics E la trasformazione del castello Dal castello di Dracula Al castello di Mago Merlino Lo stesso castello è attualmente un ristorante Molto ben tematizzato Ma ecco solo più un ristorante Sarebbe stato fighissimo vedere una dark ride all'interno Sapete che io sono un grande fan di dark ride Più dei coaster Comunque Tornando a noi Canyons Una delle attrazioni che io amavo di più da piccolo Che inizialmente nacque Praticamente con l'apertura del parco Con un percorso su dei cavalli veri Attraverso i canyon Quindi era un piccolo percorso che si faceva a cavallo Dove facevano salire i bambini E ti portavano all'interno di questo percorso Per poi negli anni 80 Venire trasformato nel Canyons Che ci ricordiamo tutti Con dei vagoncini che seguivano un percorso E finivano per passare attraverso una miniera Dove c'erano dei piccoli animatronics C'erano delle rocce che crollavano E fetti d'acqua Era molto molto bella Io la amavo da piccolo L'attrazione venne chiusa nel 2008 In seguito ai lavori di Mammut Che passa esattamente sopra Ma non venne mai riaperta come Canyons Bensì nel 2009 venne riaperta Come gioco a pagamento Chiamato Canyons Creek Dove i visitatori potevano andare a cercare l'oro In questi cunicoli in cui passava l'acqua Insomma Non l'ho mai provato Non mi ha mai interessato Neanche minimamente Canyons Creek venne poi chiusa nel 2018 Per fare spazio alla foresta incantata Che comunque in confronto a Canyons Creek Almeno succede qualcosa Attrazione non molto apprezzata dal pubblico Dedicata ai bambini Con degli attori Che ti portano attraverso questa foresta incantata In questo percorso con dei piccoli effetti speciali Nessun animatronics E alcuni effetti di proiezione 3D Devo dire A me non dispiace Nel senso che è molto targetizzata per bambini Certo che l'avessero coperta tutta E resa effettivamente gestibile tutta Tramite delle luci Avrebbe avuto un effetto completamente diverso Magari lasciando anche i piccoli carrellini Sarebbe stato senz'altro molto più interessante Raccontare una storia in quel modo Per quanto piccola Per quanto corta E per quanto semplice Piuttosto che con un percorso Che forma delle code lunghissime E dura veramente poco Però ci sono degli attori che devono recitare Insomma è abbastanza complessa la cosa Io avrei preferito vederla Strutturata un po' diversamente Sfruttare le meccaniche del vecchio percorso O comunque qualcosina di nuovo Per quanto questo comporti diversi problemi Per cui non è stato fatto Per diversi motivi Però a me sarebbe piaciuto tantissimo Vederla costruita in quel modo Ma questa è un'altra storia Magari un giorno parleremo di quello Che vorrei fosse Gardaland Tirando fuori dei piccoli progetti Delle idee Non so secondo me è sempre interessante Dare idee No? Abbiamo poi il cinema dinamico Che è situato esattamente dove si trova ancora adesso Ovvero sotto l'attuale T-Restaurant Che faceva da ingresso una volta Nasce nel 1990 Ed era un cinema dinamico Quelle zone in cui si sedevano i visitatori Si muovevano in maniera effettivamente dinamica Seguendo quello che succedeva sullo schermo Venivano proiettati fino a sei filmati diversi Durante la giornata Quindi potevi tornarci più volte Per vedere filmati diversi E io lo amavo Amavo quello dei tronchi Amavo quello della miniera Da piccolo mi ricordo che Adoravo quell'attrazione Sia per la coda Con gli animatronics e i dinosauri Vi sto parlando del 2002-2003 Quegli anni in cui effettivamente il tema principale era quello dei dinosauri Perché c'era un filmato tema dinosauri Però tra la coda e i filmati Io ero innamorato di quell'attrazione Attrazione ancora presente sotto terra Ma spenta e non utilizzata Chissà che il parco in futuro Nei prossimi anni Non decida di ridargli vita Trasformandola Sfruttando quello spazio per qualcos'altro Staremo a vedere Abbiamo poi il corpo di Eva Un tour interattivo all'interno del corpo umano In particolare di questa Eva Una donna incinta Per spiegare ai bambini Il funzionamento del corpo umano Venne aggiunto nel parco Nella zona dove ora si trova L'area di Kung Fu Panda Di fianco a Shaman Questo nell'88 E venne poi rimossa nel 93 E spostata allo Zoo Safari di Fasano Un'altra attrazione che ormai non esiste più Era Nuvola Una piattaforma che ruotava su un pendolo E sollevava i visitatori fino a 10 metri d'altezza Nata nel 1989 Nella zona dove ora si trova L'area di Kung Fu Panda Venne poi smantellata nel 2001 In seguito a un piccolo incidente Nel quale si ruppe un pistone E spruzzò olio sui visitatori Che erano sulla attrazione in quel momento Causando un po' di lamentele Giustamente ti vedi spruzzare dell'olio Dell'olio del grasso addosso Non deve essere stato bellissimo E da lì il parco decise di smantellarla E nella stagione dopo non fu più presente Altra attrazione degna di nota Icarus Flat ride situata in zona medievale Dove ora sorge il playground di Prezzemolo Nasce nel 1989 Alta ben 25 metri Faceva ruotare i visitatori Fino a questi 25 metri Mi ricordo che mio padre doveva accompagnarmi Sull'attrazione perché non potevo salirci da solo Da piccolo Io ho sempre amato le robe Che ti facevano provare emozioni forti Fin da piccolissimo Quindi doveva accompagnarmi ogni volta Lo faceva sempre a fatica Grazie papà che mi hai permesso di fare mille giri su queste attrazioni Venne poi venduta nel 2011 a Miragica Parco in Puglia Che però purtroppo pochi anni dopo ha chiuso Ed è attualmente chiuso Parliamo ora del mondo di Barbie Una mostra realizzata in collaborazione con Mattel Che comprendeva tutte le Barbie realizzate fino a quel momento È stata attiva tra il 94 e il 96 In un tendone che era situato più o meno nella zona medievale All'inizio del parco E per l'occasione venne realizzata anche una Barbie Dedicata a Gardaland Non so se qualcuno di voi ce l'ha o l'ha mai vista Ma è affascinante come cosa Barbie Gardaland Edition E ora due ultime attrazioni decisamente degne di nota Ovvero innanzitutto Tunga Che nasce in realtà come Safari Africano Che era un percorso acquatico attraverso la giungla africana Con diversi personaggi e animali sul percorso Ovviamente statici Le barche erano trainate da un piccolo motoscafo che stava in acqua E che ha creato diversi problemi negli anni Alla fine degli anni 80 vennero aggiunti diversi animatronics sul percorso E nel 99 diventò finalmente Tunga L'attrazione che io mi ricordo Ispirata fortemente a Tarzan Anche se ovviamente non potevano usare il brand L'ispirazione era molto in quella direzione Giustamente Gardaland ha sempre cercato di sfruttare brand esterni Perché i brand portano le persone al parco Io mi ricordo che da piccolo ero gasatissimo per questa attrazione Tema Tarzan Chiuse poi nel 2010 per fare spazio a Raptor Coster di un'azienda chiamata B&M Prima del suo genere tra l'altro Che è presente ancora oggi E quella era la zona dove era situato Tunga Ed è un vero peccato non averla più perché a Gardaland negli ultimi anni Mancano delle dark ride Ci sono coaster Ha una buona offerta in generale Ma quella è la parte grossa che manca E collegandoci a questo discorso Parliamo ancora della Valle dei Re La prima vera dark ride del parco Che ha consacrato Gardaland Nell'Olimpo dei Parchi Divertimento Realizzata nell'87 Con la collaborazione dei fratelli Mazzoli Che hanno dato un'enorme mano A rendere Gardaland quello che è oggi L'attrazione raccontava la storia di due archeologi Che dopo aver profanato la tomba del faraone Tutankhamon Vengono colpiti dalla sua maledizione Piena di effetti speciali Animatronics Una colonna sonora incredibile Fu amata alla follia dal pubblico E ancora oggi è ricordata come qualcosa di fantastico Venne poi ritematizzata nel 2008 Trasformandola in Ramses e il risveglio Shooting ride interattiva Dove i visitatori si trovano a fronteggiare una civiltà aliena Scoperta all'interno dell'antico Egitto Più in generale L'attrazione negli ultimi anni era distrutta La storia non era più raccontata Non c'erano più schermi Si sentivano solo gli effetti sonori delle pistole che sparavano E dei macchinari in funzione Pochissima musica Era un vero disastro onestamente E mi faceva male al cuore vederla così Da ormai un anno è chiusa È stato presentato in comune La richiesta per effettuare effettivamente dei lavori All'interno dell'attrazione Quindi siamo sicuri che Gardaland sta lavorando a qualcosa Che sia un risistemarla e lasciarla uguale Che sia un cambiarla completamente e creare qualcosa di nuovo Lo vedremo nei prossimi anni Ne parleremo qua poi anche sul canale Quindi iscrivetevi se non siete ancora iscritti Però ecco come dicevo prima Mancano delle dark ride di valore nel parco Ci sono i corsari che sono splendidi Ma serve altro E ridare vita a quell'attrazione che era la valle dei re Che è stata Ramses e che sarà vedremo in futuro Ha secondo me molto senso Staremo a vedere Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto E facendomi sapere nei commenti se vorreste altri episodi di questa serie Io sono sempre stato un po' restio dal creare video di questo tipo Perché mi interessa portarvi all'interno dei parchi fisicamente Durante l'inverno è praticamente impossibile Ma ecco se vi interessano contenuti di questo tipo Fatemelo sapere In base a come andrà questo video vedrò se farne altri E farla diventare una vera e propria serie E fatemi sapere con un commento Che altre top ten o informazioni o curiosità vorreste sapere Riguardanti i parchi divertimento in Italia E nel mondo anche Noi ci rivediamo molto presto con un nuovo video sempre qua Su Ephraim Salventure